Ciao a tutti! Le piadine Farina Acqua Mattarello e ciotolo Quindi acqua E mescolare Come vedete la nostra palletta è già pronta Questa è la consistenza che deve avere E nel frattempo che lei riposa 5 minuti Prima di stenderla Noi andremo a mettere il nostro pane in forma Notate le dimensioni di questo pane E' gigante Prima la andremo a stendere Poi andremo a cuocere la nostra piadina Perché le piadine? Perché sono un perfetto pre-workout Te la fai velocissima da fare Te la mangi 2 ore prima di allenarti E poi è le energie giuste per allenarti E quindi bomba! Veloce, rapida, buona Ok Andate a Girare Con molto stile Mamma mia Mamma mia Che qualità Allora abbiamo già fatto scaldare Il clima in precedenza La pentola Adesso Ci andiamo a mettere dentro la piadina Nooo Danno Allora la piadina molto probabilmente non c'entrerà Io ho trovato un modo Non è proprio un metodo migliore L'impiattamento non è dei migliori Anzi penso che è proprio il peggiore impiattamento che io potessi fare Eh, l'ho un po' Uuuuh L'ho un po' ripiegata su se stessa Non è uscito proprio fuori un capolavoro ecco Vediamo un po' cosa succede durante la cottura Speriamo bene Qualcosa sortirà fuori eh Ora faremo i nostri trick Primo giro Olè La cottura È ottima Infatti non ho neanche dovuto fare un 360 Ma mi è bastato un 180 Guardate qua È meravigliosa eh È bella, bella, bella Secondo me sarà anche buona Parecchio You are ready? Qua Qua Ragazzi L'opera È pronta Vi lascio i suoi valori nutrizionali Guardate che meraviglia Buonissimi Buona Bella ragazzi Ci vediamo in un futuro video Da Mar è tutto E buon appetito Queste sono buone Buon appetito Un pre-workout Perfetto E Se volete iscrivervi al canale Vi invito a farlo Attivate la campanella delle notifiche Lasciate un commento Mettete un like Fate quel che vi pare E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie.